Allora ieri la nostra bellissima Chiara Ferragni è stata vista a Disneyland mentre indossava questo completo di lino di Marco Ramballi di top e pantalone non esattamente molto economico io vi ho trovato un sacco di abbigliamento con i cuori per copiazzare Chiara a pochi euro. La maglia originale va a 388 e in saldo addirittura il pantalone a 412 euro e poi per chi vuole c'è anche la gonna 370 noi no grazie quindi abito di style cheat a 90 euro 99 da Etsy trovate questa camicina a 50 euro e poi a seguire questo abito 34 e 99 di influence cardigan con cuori a 33 e 99 sempre acquistabile da SOS poi maxi maglia a 15 euro 48. in saldo cardigan a 30 e 99 da Heartbreak e poi abito flounce London 65 e 99 poi le Crocs che io colleziono a 34 e 93 nere con i cuori poi da Rotate full ar da mettervi al petto 136 euro AliExpress non c'è scritto qui ma da AliExpress trovate questo top da Sider trovate questo cardigan a 33 euro da abbinare magari sempre col pantalone di Sider a 23 euro 40 invece da Topshop solo 15 euro 59 per questo pantalone 10 euro da Urban Trets acquistabile da SOS se per Urban Trets ma solo se siete molto alte 16 euro e 50 invece noi ci compriamo il 52 99 questo jeans per esempio basse oppure la tuttina se vogliamo sembrare mini da Shein 13 euro top Sider 18 euro con i cuoricioni altro top per noi sono Petit 19 e 59 e il jeans con mega cuori enormi e dopo le Stile de Paris 37 e 97 per il jeans con i cuori 24 euro e 24 euro e 99 per la camiciona top 17 e 25 poi da Stile Cheat c'è questo meraviglioso completo rosa di cardigan e pantalone che va a 40 euro molto di effetto se avete qualche soldino in più in tasca invece tu in set vi da questo pantalone 99 euro con i cuori rossi farm rio invece maglia e gonna qui spendete un po di più andate sui 300 e passa euro